Ci troviamo a Fontana nei Trevi, in uno dei salotti più belli di Roma. Stiamo commercializzando in vendita un'abitazione di lusso a 200 metri da qui. Andiamola a vedere. Stabile d'epoca del fino 800, appartamento di 150 metri quadrati, primo piano, buono stato. Guardiamolo insieme. Guardiamolo insieme. Guardiamolo insieme. Ampio salone, cucina, due camera da letto, studio ed accessori. Nell'affascinante centro storico di Roma. Per tutti i dettagli, maritimmubiliare.it Grazie. Grazie.